azione porco bene, questa non è dialettica di coppia lei è un fan era un inizio, era un modo per incontrarsi non essendoci accordo tra i coniugi su rapporti patrimoniali chiedo che la corte disponga per un assegno divorzile di 50.000 euro ma è mamma in questo film stiamo cercando di capire perché un uomo e una donna sono attrati questo che ha fatto, ha fatto questa? io sprigiono la fiamma vieni su veloce, dai e vince qui, come facesse il giro, via la rincorsa, zompo e vengo di qua credo che la cura back, in questo backstage, possa essere espressa in semplici parole liberiamo il campo azione, vai, 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 vai bravo, bravo, bravo ciao ragazzi, prima giorno è andato ti dice che sei speciale e tu gli credi e ti dimentichi che hai davanti un psicoterapeuta che è abitissimo con le parole è un traditore e un evoluto se almeno mi permettessi di spiegare eri o non eri con Carolina non è importante ma chi è sta Carolina? da quanto è? da quant'è? te la scopi si o no? ah scusa ma chi è? ormai io sono andata adesso tutti a Ciampino a fare l'incidente e ci sono i due non è un po' di più ma chi è che è che è un problema Grazie a tutti. Grazie a tutti. E non mi guardate? Grazie a tutti. Grazie a tutti.